Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati in una nuova versione della Valfarmer ragazzi la V5 è uscita veramente da poche ore quindi ragazzi non è che ho avuto molto tempo di testarla ma grazie al file in descrizione della mappa tutto mi è tornato molto utile mi è sembrato subito chiaro e quindi vado a farvi questa video presentazione velocissima allora ragazzi per chi non ha già visto le vecchie video presentazioni ed il nuovo di questa mappa vi consiglio di andarvela a vedere ve le lascio qui in descrizione e anche qua su in alto quindi andate a vedere prima la V3 e la V4 e poi tornate qui e vedete la V5 è molto importante che seguite l'ordine cronologico perché io ogni volta vi vado a far vedere soltanto le novità allora direi di dire subito che il salvataggio è assolutamente compatibile il salvataggio della V4 quindi state tranquillissimi l'unico problema è che vi ritroverete un piccolo bug che succede spesso praticamente in tutte le mappe cioè ovvero quando voi avete salvato la vecchia partita e magari in un punto della mappa c'era l'erba e adesso ci hanno messo un posizionabile vi ritroverete l'erba sopra il posizionabile sopra il cemento ma basta andare lì con un rullo e si toglie tutto cosa che probabilmente poi farò pure io adesso non ho avuto tempo e vado subito 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 subitissimo a farvi vedere le novità della mappa che sono tante quindi corro 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 cominciamo dalla parte bassa della mappa dove troviamo il frutteto ragazzi che purtroppo come vedete è soltanto figurativo quindi non possiamo interagire in alcun modo con le piante praticamente funziona come una serra qua mettiamo l'acqua, qua mettiamo il liquame, qua mettiamo il letame e qua mettiamo i pallets e qui ci escono pallets di frutta, prugne, ciliegie, pere e mele che cosa ci facciamo poi con questi pallets? ve lo dico io li possiamo o vendere oppure portare qua vicino a campo 35 in quella che è la nuova, è un'altra novità praticamente la fabbrica dei succhi di frutta qui ragazzi mettete che ne so i pallets di mele e qua vi esce il succo di mela qua dentro mettete i pallets di pere e vi esce il succo di pera e qua sopra su questa salitella ci sono le stesse cose solo che con prugne e ciliegie e qua vi escono i rispettivi succhi di frutta molto carina questa cosa poi passiamo al campo vicino al campo numero 19 eccola qua, un'altra novità vedete? filature, filature andiamo a vedere che non è altro che una fabbrica dei tessuti ecco vedete il bug dell'erba che vi dicevo però qua ci passate sopra con un rulletto e tutto è perfetto allora qua buttate i vostri pallets scaricate i vostri pallets di lana qui ci buttate l'acqua non si capisce perché ogni volta dobbiamo noi buttare l'acqua cioè praticamente queste fabbriche non hanno le tubature non pagano l'acqua e quindi dobbiamo portarla noi mi sembra un po' strana sta cosa vabbè e qui escono i nostri pallets di tessuti altra novità vicino al campo 18 siamo veramente vicini diciamo a tacche la birreria chiamata brasserie proprio dietro il carrefour eccola qua e qui ragazzi andiamo a scaricare orzo, segale, acqua e pallets qui scaricate i vostri cereali, qui l'acqua e dalla parte di qua scaricate i pallets ecco qua e qui vi esce la vostra birrettina medi in Valform poi ragazzi c'ho il post-it qua non è che conosco tutto già a memoria quindi fatemi leggere, fatemi prendere tempo vicino al campo numero 4 invece abbiamo la nostra fabbrica di cereali e whisky sì sì avete capito bene cereali e whisky non so perché le due cose si debbano fare insieme nella stessa fabbrica ma questa è la fabbrica che mi piace meno perché diciamo esteticamente cari amici della Val Farmer potevate fare molto meglio non mi piace proprio come è fatto esteticamente ma vabbè rimane sempre un parere personale qui ragazzi mettete avena, segale, farro e tridicale e vi escono i pallets di whisky e cereali qua mettete le vostre culture e qua vi escono i pallets dove qui viene fatto il cornflakes vengono fatti i fiocchi d'avena eccetera eccetera e non so perché la stessa fabbrica fa anche whisky e qua funziona così e noi accettiamo le cose l'ultima novità anzi l'ultima novità segnata sul foglio poi però io ne ho scoperta un'altra che non so se è una novità c'era pure sulla V3 ma io comunque ve la butto là e purtroppo la mia memoria è così è meglio dirvela due volte che non dirvela per niente comunque adesso vediamo l'ultima novità che è l'abbattitore guardate che carino praticamente è una macelleria qua scaricate i vostri animali non tutti solo pecore e maiali e qui vi da bancali di carne di pecore e maiali pronti da andare a vendere al carrefour o a chiunque o a chiunque le voglia tanto si sto soffocando non è una cosa bella poi un'altra cosa carina hanno messo diciamo diciamo vedete ad esempio sia dei maiali sia delle pecore hanno messo dei recinti aggiuntivi oltre a questi se voi guardate con attenzione vicino ai recinti originali ecco qua trovate altri recinti che però come potete vedere vanno diciamo dovete praticamente scaricarvi voi i maiali ecco non sono cioè le mangiatoie sono collegate ok quindi le due mangiatoie come vedete qua non hanno mangiatoie le mangiatoie sono collegate ma per portarci gli animaletti dovete portarceli voi ragazzi quindi mi raccomando ecco qua il trigger di scarico li caricate da là e li portate qua se magari la sono troppi vabbè comunque una sciocchezzuola insomma invece dicevo la novità che non so se c'era anche nella V3 io comunque ve la faccio vedere ops scusate devo rispingere F5 ok è la fabbrica di biodiesel che sapete benissimo come funziona praticamente ci buttate colza girasoli e mi sembra anche soia adesso non mi ricordo bene e vi fa sia liquame sia frazione mista sia biodiesel quindi non mi ricordo però se c'era però sappiate che però in questa versione non accetta solo colza qua c'è scritto colza ma accetta anche girasoli e un'altra cosa che dovrebbero essere appunto semi di soia detto questo ragazzi le novità le ho dette tutte in descrizione vi lascio il link originale e la pagina originale per quanto riguarda download dovete aspettare di cliccare sul link aspettare 30 secondi scegliere la versione gratuita poi di aspettare altri 30 secondi e alla fine vi farà scaricare non è complesso ragazzi non è complicato provateci perché magari inizialmente potete avere qualche difficoltà ma non è non è affatto difficile detto questo vi ricordo sempre di lasciare un bel polliciotto se il video vi è piaciuto perché per me è veramente importante di iscrivervi al canale condividere il video in descrizione trovate tutti i miei social compreso il server discord e noi ci vediamo alla prossima al prossimo video insomma ciao 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 ciao